Comunque il colore delle finestre, no, decisamente no, vabbè però direi di lasciare questo, già ci sta, e poi diventa un letto, quindi secondo me è molto carino, soprattutto poi perché è girato verso la finestra, quindi è molto carino, poi qua ci vedrei uno specchio, quindi andiamo alla ricerca dello specchio, perfetto, no scherzo però ci metterei un piccolo specchio qua, oddio che è strano che questo specchio di riso, non so se mi piace molto, però lo vorrei mettere tipo, fatto così, quindi magari anche fiola, e poi ho dimenticato di mettere delle piante, non le ho messe neanche prima, le sono sconvolte, e poi c'è questo, ah sono molto carino, non è viola però, le ho appena allo specchio, ecco qua, bene, qua che cosa, ah manca l'armadio, quindi perfetto, anche non so se questo faccia dell'armadio, non credo, quindi direi che manca, e ci metterei, che armadio ci mettiamo, vediamo, allora, questo è piccolino, però potremmo mettere uno di questi, come quelli della nonna, uno di questi, volevo metterli vicini, ma quando parla non si può, che due pols, vabbè, niente, le metterei tipo così, ho dimenticato di mettere dei tappeti, ecco, vedete, io non sono pratica di tappeti per niente, soprattutto perché poi lì non c'erano, quindi ho dimenticato, wow, che carino che è questo, però ce lo vedo più magari nella camera della nonna, sì, decisamente, sto per versare un tratto, adesso c'è anche, dovrò tagliare, molto macce, allora, si potrebbe mettere questo, visto che nell'altro, nessun altro, boh, non mi ispira molto, però va bene così, e che cos'è questo tappeto, però non è male, devo dire, che non è male, cioè, soprattutto perché è una camera anche molto colorata, quindi non è mica male, da notare che non ho messo quadri, ma vi faccio subito, che stronano, mettiamo una rana, ah, ma forse cambia, sì, va bene così, dobbiamo fare qua fuori, e allora, intanto, intanto, direi subito, di coprire, tipo, non so, copriamo, non copriamo, ma, tipo, così, e qua, ci mettiamo, vediamo, ok, non so, per quello, quindi, allora, qua ci metterei, ok, no, quello che ci ho messo anche là, che non mi ricordo più cos'è, quindi ve lo farò, così, e lo metto anche qua, ok, va bene, adesso che l'abbiamo messo, vediamo un attimo, diciamo qua, non era mia intenzione, non era mia intenzione, come faccio a toglierlo, come non c'è mondo a terminare, no, non è minato troppo, ok, ok, bene, torniamo giù, ok, volevo fare, finita, che fosse un mini giardino, per quando, tipo, ah, sì, ho detto per quando piove, cosa così, ma in realtà, cioè, non c'è il detto, non importa, non importa, allora, ah, sono terreno esposto, maledizione, uccidere una polina, vabbè, non importa, allora, mettiamo qualcosa da giardino, che cosa potremmo mettere, beh, intanto, direi questo, che mi sembra molto carino, per, da vai, però in realtà, volevo, fare, anche, volevo, tipo, metterci qualcosa per fare yoga, oppure per fare ginnastica, anche un'altalena, perché no, no, sto scherzando, anche perché è troppo grande, quindi, se no, molto probabilmente l'avrei messa, canestro, ci starebbe molto bene, solo che occupa un sacco di spazio, però, starebbe bene, sì, peccato, possiamo provare a metterlo, e vedere, quando, effettivamente, cos'altro si può fare, e, dopo sto pensando, a, niente, non fare un po' di, di ginnastico, se no, mettere due teli da mare, due strai, no, due teli da mare, eh, vedete, occupa spazio, non voglio occuparmi tutto, possiamo metterlo fuori, quindi questo torno, anche questi, possiamo mettere fuori, però, è vero, vabbè, non importa, vediamo, uno qua, e un altro, qua, il problema sono le porte, le porte, vanno, danno un sacco di problemi, comunque, vediamo, delle piante, queste piante, non mi piacciono, che non ho ancora capito, che non ho ancora capito, che cosa sono effettivamente, però, non importa, noi li mettiamo, ugualmente, mi piace, mi piace, il mix, di colori, proviamo, questo, sul rosa, più carino, ok, poi, 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 vediamo, un cestino, un cestino, ci starebbe benissimo, un cestino, qua dentro, un cestino, un cestino, allora, io lo lascio un po' così, se avete altre idee, magari anche, di attaccare qualcosa al muro, così, e lo dite, e io provo a farlo, niente, ci manca solo, il corridoio, che comunque, non è, troppo difficile da fare, ci mettiamo, comunque, delle luci, accanto ad ogni porta, e qualche quadro, io direi, non è che ci stiamo, molto di più, quindi, un po' tante luci, parte semplice e pulita, unione di penuti, un piano, e mettere un'altra, comoda, la nostra casa, è finita, io direi, semplicemente, di, appunto, adesso, aggiungere, i muri, e i pavimenti, che, solitamente, metto alla fine, io, stavo pensando, di farli tutti uguali, non mi piace avere le stanze, troppo diverse, quindi, vediamo un attimo, vediamo tutte le stanze, allora, questo non è mica male, come colore, e lo penso, anche per il primo colpo, vediamo, sul bianco, magari, non sul bianco, non mi piace, può chiedere, di stare su questo, come muri, anche la sua, sta bene, anche il bagno, vediamo il corridoio, ci può stare, la camera di lei, ci può stare, qui, sì, dobbiamo metterla, anche qua, ok, e, poi qua, invece, faccio esterno, ok, adesso, manca solo il pavimento, anche questo, mi piace farlo, molto, uguale, tutto molto omogeneo, non ho sbagliato, cliccare, allora, vediamo un attimo, che cosa fare, mi sa, che lo dobbiamo fare, scuro, perché è chiaro, non ci sta molto bene, non ci sta molto bene, allora, dai, lo facciamo scuro, ok, poi anche di sopra, qua non so se farlo, o sì, e anche questo, direi, non so perché, si è allontanato così tanto, ok, adesso, manca solo l'esterno, quindi, decidiamo, vediamo, cosa fare all'esterno, muri, muri esterni, ecco, wow, la facciamo sul chiaro, magari, tipo così, oh, sì, quindi, super carino, ok, non ho capito, perché quella è lasciata bianca, non ci sta nemmeno male, con il mio cuore, quella è lasciata bianca, come il propo, sapevo che non lo ha messo, non lo ha messo comunque, ok, e in realtà, manca ancora il tetto, io ho sempre un problema, coi tetti, non riesco mai, a farli, incastrare bene, però ora, ci proveremo, so che, quando guardo, tipo, quando fanno le case, su The Sims, se ne incastrano, tipo, tantissimi, quindi ora, ci proviamo insieme, questo lo giriamo, lo possiamo, ok, poi ne mettiamo un altro, qui, so che, poi andrà girato, ovviamente, ha passato, scusatemi per i rumori, ma, appunto, andando a lavorare, riesco a filmare, più di giorno che altro, quindi, se ci sarà un po' di confusione, ok, manca l'ultimo, che dovrebbe essere, quello meno complicato, perché, ha una forma, un po' più normale, finale, ok, quindi, questa cosa funziona, di intersegarle, tutti i trani, sì, è un po' brutto, quello che si vede qua, però, secondo me, è fattibile, e dobbiamo mettere, però, questo anche qua, se no, dobbiamo cambiare, questo, come lo cambiamo, sullo scuro, no, scuro così, non è male, però, dai, ci sta, se no, non è, sì, sono molto soddisfatta, quindi la casa è finita, oh, 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 la casa è finita, manca solo, appunto, il giardino, ok, non ci stanno molto, no, ok,